Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Partorisce in auto a pochi metri dal pronto soccorso a Fano storia a lieto fine per una donna marocchina Mercoledì alle 15 l'ultimo saluto a Selli nella chiesa di Lucrezia Gli amici fanno volare una lanterna in cielo oggi avrebbe compiuto 22 anni Il mistero dei treni carichi di carri armati fotografati in diverse stazioni italiane e la paura corre sui social l'onorevole Ricciati chiede spiegazione al Ministro Al via la campagna di vaccinazione contro l'influenza Saldi di fine stagione nelle marche dal 5 gennaio al 1 marzo e dal 2 luglio al 1 settembre Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione Per pochi metri non è riuscita a raggiungere l'ospedale il pronto soccorso così ha partorito in auto Una storia a lieto fine per una donna marocchina che oggi ha messo alla luce il suo terzo figlio Vediamo Stamattina abbiamo avuto questa sorpresa inaspettata Anche se la paziente aveva tutte le caratteristiche di un parto spontaneo anche veloce Era una terzigravida e quindi aveva già due figli aveva partorito già due volte Veniva regolarmente presso il nostro servizio di gravidanza termine Ieri giusto appunto aveva fatto un controllo dove si era detto e si era congedata con il consiglio di trasferirsi presso il nostro servizio quando sorgevano i primi dolori Questa notte sono sopraggiunti i primi dolori del travaglio ma è stato talmente un travaglio veloce che già nel trasferimento da Monteporzio a venire qua a Fano è successo che la donna ha partorito non è riuscita proprio per pochi metri perché è partorita proprio davanti il pronto soccorso è stata subito assistita perché nel frattempo erano state allertate il 118 che ci aveva avvisato quindi l'ostetrica con il medico di guardia la dottoressa Livi sono subito corse verso il pronto soccorso il bimbo era già nato, era già nelle braccia della mamma una bimba di 3,5 kg è stato per cui è reciso il cordone è affidata alle cure dei neonatologi che hanno detto che la bimba gode di buonissima salute la mamma è stata trasferita in sala parto dove ha secondato senza complicanze alcune e tutto si è concluso solo con un po' di paura da parte della madre che è rimasta un pochino scioccata per questo evento improvviso però ecco è una storia che è andata a buon lieto è finita bene e anzi abbiamo festeggiato tutti insieme intorno a questa neonata e questa mamma che praticamente aveva bisogno più di tranquillità perché non si era resa nemmeno conto di tutto quello che gli era successo Si svolgeranno domani, mercoledì, a Lucrezia i funerali di Selena Cani la giovane è rimasta vittima la settimana scorsa di un terribile incidente stradale in superstrada oggi Sally, così veniva chiamata dagli amici, avrebbe compiuto 22 anni Selena non è riuscita a festeggiare il suo compleanno quelle gravi ferite riportate nel pauroso tamponamento avvenuto lungo la superstrada Fano Grosseto non li hanno lasciato scampo dopo tre giorni di agonia il suo cuore ha smesso di battere proprio oggi, 17 novembre, Sally avrebbe compiuto 22 anni mamma Roberta e papà Matteo hanno scelto di darle domani l'estremo saluto i funerali verranno celebrati alle ore 15 nella chiesa parrocchiale San Apollinare a Lucrezia ieri intanto è stata effettuata l'autopsia sul corpo della giovane l'esame autoptico si è svolto nel reparto di medicina legale dell'ospedale regionale Torretti di Ancona dove Selena era stata trasportata d'urgenza in eleambulanza dopo il tragico incidente la sua auto era ferma per un guasto quando era stata tamponata da un'altra vettura guidata da un 31enne di Monte Felcino che stava sopraggiungendo dalla stessa direzione di marcia sono certa che in paradiso a modo tuo festeggerai ha scritto Xenia sul profilo Facebook della ragazza che in questa settimana è stato inondato di messaggi non solo per darle forza nei giorni in cui era ricoverata in gravissime condizioni ma anche per dimostrare vicinanza alla famiglia in quei momenti difficili strazianti ma allo stesso tempo pieni di speranza una speranza svanita purtroppo nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi gli amici di Selly hanno voluto ricordarla liberando in cielo una lanterna volante alla quale hanno agganciato dei bigliettini di carta con suscritti dei pensieri per farli arrivare così in alto fino a raggiungere Selly un angelo che non è più accanto a loro ma che di certo rimarrà per sempre nei loro cuori La polizia di Terni ha fermato un quarantenne originario della provincia di Piesa Urbino che nel giro di qualche mese sarebbe riuscito ad acquistare in modo fraudolento centinaia di costosi telefonini in vari negozi sparsi tra Milano, Perugia, Roma, Imperia, Rimini Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio e Terni dove però è stato bloccato e denunciato dalla squadra mobile l'uomo si presentava nei negozi di telefonia per lo più Wind Team stipulando contratti di abbonamento per l'attivazione delle sim card e fornendo al gestore la necessaria documentazione di alberghi ai quali a loro insaputa però intestava le schede le accuse contestate al quarantenne sono di truffa e tentativo di frutta truffa e sostituzione di persona stanno suscitando curiosità ma anche un po' di preoccupazione, un po' di apprensione le fotografie che girano e circolano sui social network in questi giorni che ritraggono una unità di carri armati fermi in alcune stazioni italiane tra le quali anche Senigallia non è passata inosservata la sfilata di carri armati transitati lungo la linea ferroviaria adriatica nella giornata di domenica 15 novembre sono arrivate numerose foto alla nostra redazione relativa al passaggio di un treno carico di mezzi militari a Senigallia uno scenario che ha destato non solo curiosità ma anche preoccupazione visti i recenti attacchi a Parigi le minacce terroristiche da parte dell'ISIS e le parole del premier Hollande che ha dichiarato la Francia in stato di guerra e come potete vedere da questa immagine sono stati avvistati anche in altre parti d'Italia come alla mezzaterme, a Termini e nella stazione di Orte l'episodio anche sui nostri social network ha suscitato non poche discussioni sul reale motivo dell'insolito transito in realtà, come ci conferma la polizia ferroviaria trasporti come questi sono molto più frequenti di quello che comunemente si pensa e possono riguardare ad esempio dei semplici trasferimenti da una caserma all'altra l'operazione infatti risulta molto più rapida se effettuata su linea ferroviaria piuttosto che su strada non c'è da preoccuparsi inoltre perché questo passaggio non è da collegare a quanto successo nella capitale francese trasporti eccezionali come questi rassicurano gli agenti vengono programmati già da diverse settimane prima in merito a questa notizia l'onorevole Lara Ricciatti di Sinistra Italiana ha depositato un'interrogazione parlamentare è un clima di apprezzione comprensibile ha detto che porta molte persone a chiedersi cosa stia realmente accadendo è necessario chiarire i dubbi ed evitare la diffusione di informazioni allarmanti o poco chiare per questo Ricciatti ritiene utile un chiarimento ufficiale del vertice della difesa al fine di tranquillizzare i cittadini sequestrate dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Macerata luminarie natalizie pericolose per la sicurezza e la salute dei consumatori per un totale di oltre 900.000 pezzi 5 persone sono state denunciate per frode in commercio l'operazione è avvenuta durante una serie di controlli in alcuni esercizi commerciali ha preso in via la campagna di vaccinazione contro l'influenza organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell'area vasta numero 1 l'influenza è un importante problema di sanità pubblica a causa del numero di casi che si verificano in ogni stagione e visto che i virus annualmente tendono a presentare alcune variazioni si determina l'epidemia influenzale che potrebbe interessare anche coloro che hanno già subito un'infezione o che sono stati vaccinati l'anno precedente i primi a dare il buon esempio e a farsi iniettare il vaccino sono proprio i medici del Dipartimento di Prevenzione dell'area vasta 1 che hanno dato il via alla campagna vaccinazioni contro l'influenza dalla settimana scorsa sono arrivati circa 50.000 dosi di vaccino che sono stati distribuiti a tutti i medici di medicina generale e quindi la vaccinazione è raccomandata ai soggetti a rischio soprattutto quelli che hanno un'età maggiore a 65 anni e possono recarsi direttamente negli ambulatori dei medici di medicina generale anche i soggetti più giovani che hanno patologie come patologie polmonari o respiratorie o cardiache o di altro tipo possono rivolgersi al medico di medicina generale per effettuare la vaccinazione antinfluenzale che è opportuna l'anno scorso il calo delle vaccinazioni ha provocato migliaia di ricoveri in ospedale e anche diversi morti Che tipo di copertura sarebbe necessaria? Dunque per avere una buona protezione della popolazione in generale bisognerebbe raggiungere almeno coperture pari o anche superiori al 65% come ha auspicato anche dal Ministero della Sanità purtroppo negli ultimi anni soprattutto l'anno scorso abbiamo registrato come è già stato detto un calo importante perché ovviamente si è in qualche modo ecco diffuso il panico a seguito di un vaccino che era imputato di creare problemi importanti cosa che in realtà non è stato le possibilità che i vaccini in generale oltre che il vaccino antinfluenzale di un effetto collaterale importante sono estremamente direi quasi inconsistenti non possiamo dire innocuo ecco ovviamente come nulla è innocuo in medicina ma come abbiamo più volte ribadito questo vaccino antinfluenzale come tutti i vaccini sono il presidio più sicuro e importante per la prevenzione che esiste in medicina quindi direi che possiamo attenderci un po' di fastidio locale forse qualche linea di febbre ma niente più controindicazioni non ce ne sono sostanzialmente sono pochissime e veramente limitate e queste sono a conoscenza dei medici di base che ovviamente provvederanno a non vaccinare quei soggetti in cui la vaccinazione non può essere praticata torniamo a parlare invece adesso dell'ospedale unico perché sull'argomento continuano ad arrivare critiche da parte dell'opposizione fanese oggi a difesa del sindaco intervengono il partito socialista e l'assessore Mascari è un teatrino ridicolo secondo i grillini quello che sta andando in scena in questi giorni sull'ospedale unico in campagna elettorale ricordano il sindaco di Fano aveva assicurato che si sarebbe battuto in difesa del Santa Croce promesse fatte e ricordate anche in consiglio comunale una volta eletto poi però una dichiarazione del vice sindaco Marchegiani segretario del PD Fanese avrebbe ribaltato le carte in tavola tutto questo problema del finto problema della localizzazione è stato creato ad arte per depistare l'opinione pubblica insomma Marchegiani ha detto che Fano avrà probabilmente un pollo completamente privato tipo Cotignola e l'ospedale unico si farà quindi a Pesaro ricordiamo che comunque anche l'ospedale unico sarà privato perché i soldi pubblici non ci sono quindi tramite il project financing o il contratto di disponibilità sempre un privato che finanzierà questa struttura quindi l'idea del PD è quella di privatizzare la sanità e secondo noi questo progetto è veramente disastroso noi andiamo a curarci come cittadini fanesi ma anche Marchegiani in generale in Emilia Romagna e lì la struttura della sanità è completamente diversa da quella che ci vogliono proporre qui ci chiediamo perché si deve continuare ad andare avanti con questo progetto nefasto che servirebbe solo per agevolare delle lobby di costruttori e dei professionisti in difesa del primo cittadino Massimo Seri è intervenuto oggi il partito socialista secondo il segretario Mirko Pagnetti era da vent'anni che un sindaco di Fano non batteva i pugni sul tavolo d'accordo con lui anche l'assessore all'ambiente Samuele Mascarin che reputa infondate le critiche dell'opposizione comprendendo quindi anche quelle avanzate dai consiglieri di progetto Fano e Udc il sindaco Seri e questa amministrazione si trovano a gestire un'eredità pesantissima che è stata lasciata da chi ha governato questa città negli ultimi dieci anni un'eredità fatta di scelte e soprattutto di non scelte sul campo della sanità e poi perché oggettivamente il sindaco Seri dopo molti anni è il primo sindaco che a Pesaro ad Ancona nei tavoli che contano ha iniziato finalmente a sbattere i pugni per difendere i diritti e i bisogni della nostra comunità peraltro a me piacerebbe ricordare che su un tema come la sanità forse sarebbe il caso di trovare una solidarietà profonda tra città e istituzioni e all'interno delle istituzioni anche tra forze politiche e l'opzione che il sindaco Seri ha messo in campo quella cioè anche di un sito quello di Chiaruccia penso che debba essere sostenuta da tutta la città invece di fare dietrologia io mi auguro che dopo questa caduta di stile ci sia la capacità da parte di tutta di potersi ritrovare a fare una battaglia comune per la sanità e per la città di Fano la giunta regionale ha stabilito le date per i saldi di fine stagione le vendite per l'anno 2016 si terranno nei periodi che vanno dal 5 gennaio al primo marzo per i saldi invernali e dal 2 luglio al primo settembre per quelli estivi torna al Codma di Rosciano la ventotesima edizione di Sapore e Romi d'autunno la tradizionale fiera a mercato dei prodotti locali e di stagione che si svolgerà nelle giornate del 22 e 29 novembre ad organizzarla l'associazione Viandanti dei Sapori con il patrocinio del comune di Fano e la partecipazione di tutte le associazioni agricole che operano sul territorio l'inaugurazione è prevista per le ore 10 di domenica prossima anche quest'anno gli alunni delle scuole Corridoni e Padalino hanno ottenuto il riconoscimento della bandiera verde hanno lavorato sul corretto smaltimento dei rifiuti sul rispetto delle aree verdi sui problemi ecologici e più in generale sulla tutela dell'ambiente grazie a questi comportamenti virtuosi per il sesso anno consecutivo la direzione didattica Fano San Lazzaro e l'istituto comprensivo Padalino hanno ottenuto il riconoscimento della bandiera verde il progetto denominato Eco School è uno dei programmi internazionali della fondazione per l'educazione ambientale che riguarda la scuola in ogni suo ambito dalle classi agli uffici alle aree all'aperto e l'obiettivo è quello di migliorare la vivibilità e la sostenibilità ambientale sviluppando il senso civico dei ragazzi anche attraverso la riduzione di sprechi e consumi io mi sono infine insediata da ottobre e quindi partecipo per la prima volta a questo evento e sono molto fiera dei miei bambini che hanno partecipato a questo progetto Eco School e hanno attuato dei comportamenti proprio nel rispetto dell'ambiente che poi naturalmente sensibilizzeranno anche i loro genitori e le loro famiglie quindi per la riduzione dei consumi e degli sprechi la bandiera è stata consegnata da Patrizia Servizi componente del comitato regionale del progetto Eco School alla presenza della presidente di AZSPA Lucia Capodagli e dell'assessora all'ambiente Samuele Mascarin si sono fatti carico di costruire nel loro piccolo una città più pulita più ordinata una città migliore e in questo senso sono un esempio e uno stimolo per una città che nonostante alcuni risultati importanti deve ancora fare molto nel campo dell'ambiente certo i risultati che Lanci ha riconosciuto il comune sulla raccolta differenziata l'opera di bonifica dell'amianto per 1.400.000 euro che stiamo completando in queste settimane sono passaggi molto importanti ma sicuramente bisogna riconoscere che da tanti anni le scuole fanesi sono molto più avanti della città della società fanese e in questo anche oggi sono un ottimo stimolo anche per gli amministratori e adesso spazio invece alle vostre segnalazioni questa sera vi proponiamo una video segnalazione a dire il vero e a proposito se volete anche voi potete inviarcele guardate come ha girato questa video segnalazione questo nostro telespettatore ascoltiamo è l'ex asilo Manfrini e quella laggiù mi sto guardando adesso è via Gentile da Fabriano la strada che porta la stazione questo di fianco a me è secondo le intenzioni del personale del comune una protezione per le persone che come si chiama per la gente che deve attraversare la strada però a un certo punto succede questo non sarebbe ora visto e considerato che questo ostacolo c'è da almeno almeno tre mesi i signori del comune o i signori che curano la manutenzione dell'asilo facessero qualcosa o aspettano che qualcuno passi all'esterno e viene investito dalle macchine che provengono da e questa è la video segnalazione potete inviarcela anche a voi come sempre i riferimenti li sapete c'è whatsapp c'è l'email insomma i metodi c'è internet i metodi li conoscete domani invece mercoledì mercoledì sera dopo il telegiornale qui in questo studio c'è un sindaco che fa il suo debutto all'interno del programma Primo Cittadino stiamo parlando del sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi come sempre potete intervenire in diretta chiamando i numeri che vedete in sovraimpressione era l'ultima notizia grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona sera arrivederci